Salve a tutti siamo qui con un nuovo video e in questo video continueremo la serie su LSPDFR in questo episodio siamo degli sceriffi accompagnati da un'unità cinofila che ci darà una mano negli inseguimenti a piedi, nell'uccidere delle persone se necessario e può anche annusare e quindi trovare della droga o altre cose illegali all'interno dei veicoli quindi direi che possiamo andarlo a prendere, entriamo nella centrale degli sceriffi, eccoci qua vedete subito che c'è un adorabile cagnolino, un Rottweiler con la lingua di fuori pronto ad accoglierci quindi direi che lo facciamo come nostra unità K9, ecco fatto, ora ho un partner unità K9 quindi la prima cosa che facciamo è sicuramente andare in giro, vedere se la centrale ci dà qualche compito in grato facciamo salire, ehi amico vieni su, salta su eccolo qua, guardate che figata assurdo, vederlo al posto del passeggero è bellissimo a parte il fatto che non chiude le porte quindi lo devo chiudere da me a parte questo direi che è una bellissima mattinata, sarà piena di attività immagino per i criminali ok c'è stata una rapina al Gran Senora Desert, mi sembra che si chiami Supermarket quindi dobbiamo andare al Supermarket velocemente, il più veloce possibile ci saranno sicuramente dei malviventi lì, speriamo che ci siano altri agenti nella zona dato che io sono abbastanza lontano dal punto, non vorrei che riuscissero a scappare il commesso del negozio ha allertato la polizia, probabilmente con uno stratagemma e teoricamente i ladri non sanno che noi stiamo arrivando quindi avranno una bruttissima sorpresa quando vedranno il mio Rex mordergli i cosiddetti si trova vicino all'autostrada, ci avviciniamo al Supermarket potrebbe essere, ah no ok, una pompa di benzina, perfetto ok parcheggiamo davanti proprio all'entrata così li blocchiamo su questo fronte facciamo scendere il nostro amico, prendiamo sicuramente la pistola controlliamo com'è la situazione, ok vedo dei malviventi all'interno uno è andato, dov'è l'altro? dov'è l'altro? ce n'è solo uno? perché hai ancora le mani alzate? hai ancora le mani alzate? c'è qualcun altro qua dentro? no, ok ok dovremmo, siamo a posto quindi ok allora il malvivente è morto possiamo terminare la chiamata qua? chiamiamo un coroner che porti via il corpo faccia delle foto tu intanto puoi anche abbassare le mani io non ti farò niente, sono lo sceriffo vediamo se riesco a parlargli o interagire in qualche modo no, allora facciamo fine, terminiamo la chiamata ok ecco fatto quindi uno Lincoln 18 che siamo noi è il nome del nostro agente Gran Senora Desert Supermarket codice 4 perfetto quindi il coroner ha già fatto le foto tra un po' andranno via togliamo le sirene comunque una cosa che volevo farvi vedere è il dettaglio di questo veicolo che vedete che è proprio un veicolo per i cani poliziotto davvero davvero bellissimo comunque allacciamo le cinture di sicurezza aspettiamo un'altra chiamata intanto no, è meglio non andare contro mano ma facciamo il giro qua affianchiamo il traffico e poi usciamo alla prima uscita ottimo allora abbiamo ricevuto una chiamata per un backup necessario c'è un agente del traffico oppure un altro sceriffo che ha fermato una persona probabilmente si è accorta di qualcosa magari che era ricercato o robe del genere non ne ho idea adesso andremo a sentire che cosa ha da dire l'agente che ha bisogno di noi intanto noi abbiamo anche il nostro cane quindi se serve controllare il veicolo per droga o altro noi siamo a disposizione ok è un agente normale a quanto pare è partito un inseguimento appena sono arrivato seguiamo il l'altro veicolo della polizia intanto quello che direi di fare io anche è sicuramente utilizzare un blocco stradale se possibile no ok forse non ce n'è bisogno forse non ce n'è bisogno uh acp che gli ho spaccato la gli ho spaccato la portiera in faccia fermo dove sei mani in alto mani in alto a terra dovrei spostare il mio veicolo perché è un po' complicato arrestarti in questo punto qua ma teoricamente ok ce la facciamo più o meno con un bug però ce la facciamo ottimo quindi il sospetto billy bob che ha tentato di scappare dalla polizia è sotto arresto quindi chiamiamo un trasporter che lo porti via intanto togliamo il menu dei blocchi stradali ora controlliamo il veicolo voglio vedere se c'è qualcosa di insolito no ok non abbiamo trovato nulla di interessante quindi torniamo sulla nostra volante aspettiamo che ci invieno altre coordinate per altre emergenze intanto lasciamo che l'altro agente si occupi del veicolo billy è stato portato via da un'altra volante ci mettiamo un secondo a lato per non intracciare il traffico anche le cinture di sicurezza abbiamo un ladro di non ho capito se di carburante oppure comunque qualcosa con la pompa di benzina quindi mettiamo le sirene facciamoci largo attraverso il traffico magari questo agente potrebbe aiutarmi o è quello che deve consegnare ce ne sono due di agenti ok vediamo se è un inseguimento quello che dobbiamo fare o semplicemente c'è un altro supermercato che è stato rapinato da qualcuno sicuramente qualcosa con la pompa di benzina quindi andiamo a controllare ok siamo arrivati allora fatemi controllare la situazione sembra che ci sia una persona che stia ah ok quello teoricamente dovrebbe essere il proprietario del della pompa di benzina si salve salve agente benvenuto alla mia stazione di servizio sfortunatamente ci sono stati molti ladri recentemente ne ho preso uno con la telecamera di sicurezza lo guardiamo insieme ok vediamo di che cosa sta parlando ok a quanto pare sembrerebbe una donna al volante di una auto di lusso adesso non riesco a riconoscere bene che veicolo sia però ok era qua quindi il veicolo era una F620 di color verde oliva non so come abbiamo fatto a identificare i colori forse perché se li ricorda lui la targa era 47 mce702 ricordiamoci questo numero 47 uh diamine cosa diamine vuole questo drogato qua aspettate non riesco a togliermi da qui non riesco a togliermi da qui vi giuro sono bloccato nella conversazione ok no non ci posso credere togliti da qua agente non si riesco a andarmene via non riuscivo ad andarmene via cavolo ragazzi mi dispiace ma non riuscivo ad andarmene via ero bloccato nella conversazione e non è la prima volta che succede volevo cercare quella F620 abbiamo ancora il nostro animale no il cane non c'è più quindi riprendiamo un altro Rex utilizziamo un po' le sirene così facciamo più velocemente anche se quella è una macchina piuttosto veloce quella F620 anche se lui non si aspetta di essere seguito da noi perché non so se ha conoscenza della chiamata del venditore alla pompa di benzina comunque l'area gialla ok si sta allontanando vedo che il sospetto si sta allontanando vediamo se possiamo chiamare backup per un inseguimento no non c'è backup per l'inseguimento probabilmente non sta correndo alla massima velocità ora magari ci aggiorna si ok lo stiamo raggiungendo perfetto tra poco teoricamente dovremmo riuscire a vedere una F620 verde oliva ottimo quindi a tutti gli agenti ho trovato la F620 sembra che stia cercando di scappare via ora non so se guida semplicemente veloce oppure cerca di scappare via vediamo se riusciamo a fermare il sospetto perfetto gli ho segnalato di fermarsi ok si è fermato qua perfetto allora scendiamo facciamo scendere anche il nostro cane ok ok appena siamo scesi è partito il torna su torna su ok chiedo agenti per un inseguimento di una F620 verde oliva ci sono già un bel po' di agenti pronti all'inseguimento teoricamente dovremmo riuscire a fermarlo tutti insieme mi allaccio la cintura perché sto anche guidando contro mano ottimo ok siamo un bel po' di agenti adesso non so se abbiamo bisogno di un blocco stradale lo chiedo comunque per sicurezza avremo un blocco stradale tra 22 secondi sulla Redwood c'è una moto all'inseguimento dovrebbe essere lì dietro forse il blocco stradale potrebbe avere un effetto utile sull'inseguimento agente a terra vedo un agente a terra incidente stradale probabilmente il blocco stradale ha avuto un effetto positivo ecco siamo riusciti a bloccare il sospetto mi metto davanti a lui così non si muove più quindi adesso gli punto l'arma uh non l'estintore però ferma dove accipicchia c'è riuscita a scappare è riuscita a scappare l'auto è riuscita a scappare adesso mi sembra che se la stavano cavando bene i poliziotti davanti a me quindi è questa è una buona notizia ok tra dieci secondi abbiamo un altro blocco stradale più avanti qua purtroppo si apre la campagna quindi teoricamente potrebbe non avere effetto ok mi sto avvicinando al sospetto cerco di mandarlo addosso ottimo in testa coda vediamo se riesco a mettermi davanti a lui ok 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 perfetto genti ragazzi state fermi un secondo questa è una delle più cattive che abbiamo trovato finora ok perfetto scesa dal veicolo mani in alto mani in alto ottimo abbassati lentamente lentamente ok perfetto perfetto vediamo se riusciamo a chiudere la portiera perché ci intralcia un po' ok tu sei in arresto ottimo ragazzi ce l'abbiamo fatta con non pochi agenti questa era una macchina piuttosto veloce quindi è stato più difficile del previsto chiamiamo un trasporto torniamo sul veicolo intanto il nostro cagnolino non è servito in questa operazione quindi otteniamo buono per una prossima adesso non so se ci sarà bisogno di un carro a tre no ok a quanto pare ci ha già pensato qualcun altro a chiamare il carro a tre se il veicolo è scomparso andiamo a rispondere alla chiamata abbiamo un veicolo un mule 3 un mule 3 o qualcosa del genere con la targa 81 sao 205 che potrebbe giusto essere questo veicolo qua anzi probabilmente è lui attiviamo le sirene fermiamo il veicolo controlliamo la targa se corrisponde a quella che ci hanno dato in centrale ok il sospetto si è fermato apriamo il computer della polizia controlliamo che 81 sao 205 sia effettivamente un registrato a un mule 3 magari vediamo anche a chi appartiene così controlliamo i documenti dell'autista ok mule è di etan teiodiculo wow sabato novembre 08 1958 è la data di nascita è un maschio ha la patente scaduta quindi questo non va già bene di suo non ha nessuna non è ricercato eccetera eccetera quindi patente scaduta probabili immigrati all'interno del veicolo prima lo salutiamo gli chiediamo l'id vediamo se effettivamente è lui e se è anche scaduta salutiamolo per prima cosa ok è etan quindi comunque è scaduta la patente lo fermeremo già per questo però apriamo dietro aspettate che faccio scendere il mio miglior amico cerca nel veicolo annusalo e vedi se trovi qualcosa di illegale comunque poi apriamo anche il dietro per vedere se c'è se ci sono degli immigrati ok sembra che non ha trovato niente quindi droga non ce n'è apriamo per vedere se ci sono dei clandestini ok si ci sono due un uomo e una donna che ok si sono arresi tutti quanti quindi direi che siamo a posto controlliamo che non scappino intanto fermo lui che ha anche dei problemi con la licenza della patente questi sembrano dei clandestini pacifici quindi li facciamo semplicemente abbassare ovviamente poi dovranno controllare i documenti e tutto li facciamo portare in centrale poi lì gli faranno le domande li processeranno e vedranno se è il caso di incarcerarli per quanto tempo fare una multa rispedirli nel loro paese poi parleranno non so con l'ambasciata o qualcosa del genere c'è un trasporto pronto per norma etan e wyatt quindi multitrasporto si chiediamo multitrasporto portiamoli tutti insieme contemporaneamente via perfetto una volta fatto ciò il traffico sta diventando abbastanza aggressivo il veicolo è arrivato per il trasporto multiplo adesso non so come riescono a trasportare tre persone con quell'auto ma non ne ho idea comunque adesso li porta lei ci pensa lei invece per quanto riguarda noi chiamiamo un carro attrezzi a parte il fatto che non hanno ancora portato via la tizia cioè che mi serve il backup per portare via questa tizia hanno portato solo quei due ecco perché è arrivato un uh addirittura diamine cosa sta facendo la gente agente impazzito agente impazzito oh mio dio ok un'unità ci ha contattati con necessità di un backup quindi andiamo nella zona teoricamente ha fermato una persona e vuole aiuto dato che abbiamo sia l'unità cinofila e anche il nostro supporto possiamo anche controllare il veicolo per vedere se ha se ha della droga se sta importando della droga dal sud america o altre cose ok li vedo già qua abbiamo un altro sceriffo che ha fermato a quanto pare una massacro sembra una massacro nera posizioniamoci davanti a lui così ogni possibilità di scappare ovviamente può scappare comunque ma almeno siamo davanti facciamo scendere anche il nostro amico lo facciamo venire qua andiamo a parlare con lo sceriffo vediamo che cosa ci dice ok vedi quello del veicolo davanti a me il conducente è ricercato ho appena controllato ok quindi probabilmente anche un'arma da fuoco quindi dobbiamo massima precauzione ecco perché mi ha contattato mi ha chiamato per venire immediatamente chi va ad arrestarlo vado io ad arrestarlo ok quindi devo arrestare il sospetto ricercato lì intanto mi fa da cover mi copre con l'arma signora scenda dal veicolo immediatamente lei ha ricercata anche un'arma da fuoco uh ti stanno già sparando no ok sei a terra a terra perfetto non gli altri poliziotti comunque non hanno davvero pietà cioè se vedono qualcuno con un'arma lo uccidono fino a di tutto ok no mi hanno ucciso il cane bastardo mi ha ucciso Rex non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere mi ha ucciso Rex fermo dove sei fermo dove sei hai ucciso un'unità cinofila che diamine avevi in mente oh mio dio questa è la cosa peggiore che mi abbiano fatto in tutto cioè adesso dovrò fargli pure il funerale quindi mi serve un trasporto per portare John e Max multitrasporto per portarli via di qua lui ha ucciso un'unità K9 e lei o lui che diamine sei sei un lui era ricercato dalla polizia e aveva anche un'arma da fuoco in mano quindi il trasporto arriva per voi purtroppo Rex è morto quindi devo cercare un'altra unità che lo sostituisca chiediamo un coroner anche per il nostro amico a quattro zampe purtroppo è andata così quindi torniamo dobbiamo tornare in centrale e si spera che riusciamo a trovare un'altra unità sono molto preziose le unità K9 quindi speriamo di riuscire a trovare qualcun altro che prenda il posto del povero Rex torniamo indietro vedo vedo una persona ubriaca che si sta avvicinando la mia alla mia vettura osserviamo un secondo la scena per vedere che cosa ha in mente di fare oh cosa sta tirando fuori i pantaloni sta tirando sta sta pisciando sul nostro parcheggio no aspettate qua fermo dove sei fermo dove sei fermo dove sei aiutami Rex aiutami ok Rex ha fatto abbastanza paura adesso ci pensa lui Rex vai piano l'hai ucciso l'hai ucciso si ok non portarmi il cadavere ok ok quindi abbiamo un uomo a terra chiamiamo un coroner portiamo via il corpo amico avrei preferito che tu lo avessi semplicemente cacciato via oppure anche catturato ma non che l'avessi ucciso ok allora abbiamo una persona con un coltello non si sa se sta minacciando qualcuno andiamo a controllare ok vedo la persona con il coltello e sta per attaccare un'altra persona quindi fermiamolo immediatamente Rex prendilo prendilo vediamo se ce la fa lui a prenderlo ok ho un coltello in mano procedo a sparargli uuu diamine mi sono sentito davvero a disagio Rex non ha fatto neanche in tempo ad arrivare qua che ok il coltello è partito apriamo un uffine per terminare la chiamata tre persone che probabilmente sono dei clandestini venuti qua dal Messico attenzione attenzione ok ok sta arrivando anche il cane vediamo se riesci a fare qualcosa di interessante a parte che gli avrei già sparato a sti tizi ok prendila neutralizza quella tizia col coltello anche quell'altra maga uuu stanno pestando il mio cane oddio ok perfetto tutte le persone sono morte a terra abbiamo ricevuto un'emergenza c'è una bicicletta in autostrada so che secondo me è abbastanza divertente come cosa ma può essere un pericolo pubblico infatti il traffico è bloccato eccolo qua vedo la persona in bicicletta non so se lo sta facendo o è ubriaco o drogato ma abbiamo un signore anziano sulla sessantina in bicicletta in autostrada intanto direi che possiamo chiudere la strada dietro di noi vediamo se posso intanto togliamo il blocco stradale vediamo se posso segnalargli di fermarsi come se fosse ok come se fosse un veicolo si fermi ok perfetto il sospetto si è fermato scendo dal veicolo non potrà scappare perché è una bicicletta ok c'è un container di alcol probabilmente una bottiglietta una bottiglia il la persona in bicicletta sembra piuttosto ubriaca proviamo a salutarlo e chiediamogli l'id vediamo gli facciamo una multa di in autostrada è piuttosto grave ragazzi quindi io direi di fargli una multa di 1250 dollari ok prendiamo il nostro blocco poi lo portiamo via dalla bicicletta dall'autostrada cioè questa è la sua multa no mi spiace ma lei non può lei non può guardate sono più veloce a piedi signore la prima volta è una multa ma la seconda volta si levi dall'autostrada glielo ripeto un'ultima volta si tolga dall'autostrada si fermi immediatamente fermo lei a terra ok Alexander è stato preso abbiamo un'emergenza per un allarme silenzioso che è scattato vicino agli edifici di Seaview Road cioè a Grapesied sapete nella parte di campagna di Los Santos avviciniamoci con cautela teoricamente dato che era un allarme silenzioso potrebbero essersi già allontanati però il sospetto non sa che la polizia è stata allertata quindi direi che possiamo andarci magari con più calma senza sirene vediamo dove è scattata l'allarme vediamo se abbiamo delle telecamere di sicurezza che ci possono dare una mano nell'identificare le persone che ok siamo arrivati investighiamo l'area per attività sospetta qua c'è un contadino che però sta fumando una sigaretta non mi sembra niente di che qua c'è anche una persona con in mano qualcosa ha in mano qualcosa quella persona lì non ho capito se è un portafoglio sembra che abbia in mano qualcosa una spranga ok ok partiamo all'inseguimento del sospetto sembrava avesse uh diamine di qua non riesco a passare ok si sta avvicinando al canale di di scolo ok è lì fermo sta correndo sta correndo è inciampato perfetto la nostra occasione fermo dove sei fermo dove sei perfetto a terra non so che cosa ci stavi facendo qua ma probabilmente stavi cercando di rubare qualcosa dai capannoni per fortuna c'era un allarme silenzioso che è scattato diamo una controllata alla scena sembra che ci sia qualcosa la una volta che avremo terminato possiamo terminare la chiamata ma per ora mi sembra di aver visto ok ho trovato un portafoglio e anche credo un manganello oppure un piede di porco quindi questa è dell'evidenza della sua colpevolezza ora dato che abbiamo finito premiamo and codice 4 sull'allarme silenzioso a seaview road ok il trasporto è arrivato noi ce ne andiamo subito appena partiti c'è una persona che sta guidando sotto l'influsso di alcol o droghe vicino alla fattoria qui cerchiamo di fermarlo come se fosse una persona normale poi facciamogli se possibile l'alcol test e il test per la droga ok sembra piuttosto veloce procedo con le sirene ad identificare il sospetto sembra una non la vedo bene da qua un minivan ora non so se è anche sotto l'influenza di droghe o altre robe però sta correndo parecchio vediamo se riusciamo a fermarlo vi sto continuando a dire di spegnere il motore e non ce la fa chiamiamo qualche altra unità locale in più organizziamo un blocco stradale vicino tra 23 secondi dovrebbe essere pronto su questa strada sta davvero correndo parecchio anche però la polizia che sembra intenzionata a prendere il sospetto con tutte le loro forze ok ok è andato a sbattere contro un palo questa è la nostra occasione d'oro vediamo se riusciamo a fermarlo in questo modo sembra di sì cavolo riesce con quel minivan a spostare il mio veicolo della polizia ok 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 gli altri agenti gli stanno puntando l'arma addosso vediamo se riesco a fare la differenza perfetto perfetto fermati dove sei fermo dove sei ottimo mani in alto mani in alto allora il veicolo era questo controlliamo un po' di cose voglio cercare se c'è qualcosa all'interno del veicolo vediamo se trovo qualcosa di interessante no non abbiamo trovato nulla di troppo interessante vediamo qua se c'è qualcosa ok ho trovato dell'alcol una bottiglia di alcol aperta quindi questo conferma la tesi del del civile che diceva che avevano bevuto ok abbiamo ricevuto una chiamata per un rimorchio o un camion rubati ok penso di aver capito di che cosa si tratta sembra addirittura uh anzi sembra quasi una roulotte rubata qualcosa di grande comunque vedo anche una parabola sul tetto quindi c'è questo specie di veicolo adesso non so perché l'abbiano rubato ma diciamo che non passa inosservato ecco quindi sta facendo anche un bel po' di casini c'è una persona all'interno della roulotte vedo abbastanza spaventata probabilmente perché hanno rubato il veicolo quindi vediamo se riusciamo a fermarlo si è praticamente incastrato da solo vicino ai binari quindi fermo dove sei a quanto pare questo è inseguito anche da altri agenti c'è un elicottero che non ho chiamato io subito pronto lì ok perfetto mani in alto abbiamo anche un elicottero di supporto cosa cioè perché non solo cosa ma perché questo comunque lo spiegherai agli agenti in centrale o addirittura in tribunale quindi chiamiamo un trasporter per lui intanto io non so che cosa farcene che cosa ce ne facciamo questo è l'uomo che era all'interno della roulotte adesso è uscito ma non ho capito che cosa ci facciamo di questo enorme veicolo qua e al massimo chiamiamo la ditta di trasporto e ci penseranno loro al massimo se proprio ok bene quindi direi che oggi abbiamo finito ci vediamo a tutti con un prossimo video lasciate un like iscrivetevi entrate nel gruppo telegram che è in descrizione arrivederci a quanto pare è franato un pezzo di montagna ci sono delle dei massi che sono caduti su una stradina su un sentiero quindi chiamiamo un camion che possa portare via i sassi dalla a Sì